oggi vediamo questo contafili viene chiamato contafili oppure lentino si tratta di una lente di ingrandimento inserita in una struttura che viene richiusa in questo modo aperta appoggiata e in particolare questo ha delle dimensioni molto ridotte la base è un 10 x 10 mm 10 ingrandimenti e viene utilizzato in particolare per vedere tessuti filati ma anche testi scritte qualità della carta qui vediamo sotto un righello e si vede proprio che è un centimetro esatto la parte ingrandita si possono fare delle misure è uno strumento di qualità lente in vetro cento per cento made in italy di colore oro ottonato qui vediamo come si chiude la lente resta protetta si inserisce nel suo stuccio ed è comoda anche per essere portata in giro grazie per l'attenzione vi aspettiamo sul nostro sito per vedere questo contafili e tanti altri oltre a lenti di ingrandimento e accessori di ogni genere mi raccomando iscrivetevi al nostro canale per continuare a seguirci ciao a tutti arrivederci